Leggiamo il comunicato stampa dell'Associazione Culturale Territorio di Ispica, firma del coordinatore cittadino Biagio Solarino, della responsabile scuola professore Gabriella Bruno e del responsabile finanziamenti pubblici Lino Quartarone. Il Ministero dell'Istruzione ha emesso un bando di finanziamento finalizzato ad erogare risorse da assegnare ai comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione o la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online entro il 21 maggio 2021 sul sito del Ministero dell'Istruzione nella pagina dedicata all'edilizia scolastica. Priorità sarà data ai progetti che riguarderanno aree svantaggiate e periferie urbane, prevedendo interventi in territori dove oggi ci sono minori opportunità per le bambine e i bambini per le loro famiglie. Il Movimento Territorio di Ispica, afferma la responsabile scuola professoressa Gabriella Bruno, auspica la partecipazione del nostro comune affinché nell'intercettare questa opportunità, si prosegua nel percorso di riqualificazione e messa in sicurezza dei sette edifici scolastici della città, gestiti dall'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e Padre Pio da Pietralcina. Questa è un'opportunità da cogliere perché finalmente il legislatore pone attenzione alla scuola dell'infanzia, 3-6 anni, afferma Lino Quartalone, responsabile finanziamenti pubblici. Ad Ispica gli edifici che ospitano tale grado necessitano di ulteriori interventi oltre quelli già realizzati prima dell'inizio del corrente anno scolastico. Monitoreremo la partecipazione del comune di Ispica attraverso i consiglieri di minoranza che siedono al Consiglio Comunale.